Questo workshop con la Tau Marine e con questi splendidi ragazzi che arrivano dalla sede di Cagliari, dalla sede di Roma e di Milano, dello IED, con i miei colleghi, sta diventando ogni giorno che passa un'esperienza sempre più interessante perché il lavoro di gruppo è sicuramente quello che ci arricchisce e ci dà la giusta prospettiva per capire cos'è realmente il design. Il design è una piattaforma che ci serve per capire il mondo, per fare nuovi progetti e per stimolare una qualità di vita migliore per tutti. Per cui ringrazio tutte le persone che stanno collaborando e che mi stanno permettendo di vivere anche personalmente un'ultima esperienza. Ringrazio ovviamente la Tau Marine e l'OIED che ci permettono di divertirci e di imparare tante cose sempre. Grazie. Siamo qui all'OIED di Cagliari con il workshop Design After Food che mette insieme un'azienda così importante come Tau Marine, l'OIED. Riuscendo a creare, secondo me, dal mio punto di vista, che sono un ex studente e oggi docente dell'Istituto Europeo di Design, un bellissimo connubio tra un'azienda così importante e leader nel suo settore e una scuola portata al design. Per i ragazzi sicuramente è un'esperienza molto positiva. Già io che sono uno dei supervisori mi rendo conto di quanto è positivo per loro questo tipo di rapporto e di feedback diretto che hanno con un'azienda così importante che gli apre anche la possibilità appunto di approfondire quelli che sono progetti e vederli poi possibilmente realizzati magari, visto che nella fase finale appunto ci sarà una scelta proprio dei lavori più vari da parte dei ragazzi.